Honda X-ADV modello 2021 è un prodotto che già si conosce, un grande successo Honda, e questa è la nuova versione con alcune nuove particolarità che lo differenziano appunto dal modello precedente. Sicuramente a livello di blocchetti per quanto riguarda i comandi è sicuramente cambiato in confronto a prima, abbiamo qui addirittura un mouse virtuale che ci permette di fare qualsiasi tipo di operazione in maniera abbastanza semplice. Le grandi differenze con il modello precedente è che questo ancor più di quello precedente del modello precedente permette una personalizzazione pressoché totale del mezzo perché ha innumerevoli regolazioni a livello di traction control, potenza del motore, freno motore, ABS e quant'altro che appunto ci permettono di cucirci addosso questo mezzo. Ha il suo punto di forza nel fatto di non poter essere inserito in una categoria specifica perché abbiamo tecnica e diciamo strutture di una moto vestita da scooter per cui viene definito crossover ma questo mezzo ha la possibilità di andare addirittura in fuoristrada. Diventa estremamente efficace in città ma può essere assolutamente divertente per una scampagnata e addirittura si è ben attrezzato e ha la sua portata anche il turismo. Quello che bisogna fare molta attenzione è l'uso delle mappe più che nel modello precedente perché tutte quante le mappe sono state ottimizzate per il loro specifico uso. Per esempio la Sport è un tipo di mappatura che permette una guida molto efficace nell'extraurbano e anche a livello autostradale ma pone dei limiti a livello di guida in città o di guida diciamo tranquilla perché ha un freno motore troppo invadente perché ha un'accelerazione di un certo tipo e in questo ci viene in aiuto anche la mappa user che ci permette di fare un tipo di mappatura che sia assolutamente perfetta per il tipo di percorso che generalmente usiamo tutti i giorni o che intendiamo fare. Per il resto la moto finiture onda per cui parliamo del top, motore assolutamente efficace e al piacevole rumore del modello precedente si aggiunge un sibilo di aspirazione che fa di questo mezzo un qualcosa di ancora per certi aspetti racing. Per il resto un mezzo molto 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 divertente. Due domande Andrea. Difetti. Ma io difetti ne ho trovato uno nella posizione di guida nel senso che i piedi sulla pedana sono costretti in una posizione pressoché unica per cui non c'è la possibilità di muovere più di tanto i piedi e di trovare una posizione che possa essere più adatta. Altro piccolo limite è la possibilità da parte di piloti di piccola statura o media statura diciamo fino al metro e settanta potrebbero avere qualche problema nel poggiare il piede a terra un po' per l'altezza ma anche per la larghezza del mezzo e questo potrebbe creare qualche piccolo problema di stabilità. Per il resto altri difetti non ne vedo perché insomma ripeto si è andato a migliorare quello che era un mezzo già assolutamente efficace. I pregi più importanti sono la polietricità di questo mezzo cioè questo mezzo lo possiamo usare a 360 gradi come ho già detto in qualsiasi situazione se ne viene fuori anche se il peso è abbastanza è un peso importante comunque il bilanciamento della moto permette di gestire tutte le situazioni in maniera assolutamente ottimale. È un mezzo che appunto strizzando l'occhio al fuoristrada va molto bene anche sulle nostre martoriate strade italiane specialmente le strade in città parlando di Roma che è l'esempio classico italiano diciamo che con questo mezzo le buche possono essere affrontate in maniera assolutamente tranquilla. È stato un piacere alla prossima mi raccomando sempre con il cervello acceso. Ciao.